a me riconoscete bravo grazie ragazze fantastica siamo amici su facebook io seguo il tuo canale e tu il mio come ti chiami? dobbiamo parlare una scenetta una scenetta no ma non si può qui si inquadra ci fa l'amore il carnevale molto poco Pablo come stai? sei un bugiardo sei stupendo grazie anche tu dai grazie buonasera buonasera merci buonasera 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 il pianto non vale sta viso così vedi il bastone così io li conosco chi sono io? sei fabulito bravo Daniel, ti va? si, ti va molto bene si, ti va molto bene sono meravigliati tutti i giorni sono delle estole di Venise bello, come si chiama? Romeo Grazie a tutti.